Ciao a Betes.it! Alla Corte di Ruth RBG, acronimo per Ruth Bader Ginsburg, è il documentario di Julie Cohen e Betsy West alla Corte di Ruth sul formidabile giudice della Corte Suprema nominato giudice della Corte Suprema nel 1993 da Bill Clinton, una grande donna, un grande magistrato, una grande icona della cultura nordamericana, tanto che nel 2018 uscì questo documentario sull'ultraottantenne Ruth Bader Ginsburg e alla fine del 2018 sarebbe uscita anche una versione fiction che noi abbiamo visto, abbiamo videolicenzito, abbiamo anche avuto distribuito appunto in Italia, una giusta causa di Mimi Leather con Felicity Jones nei panni di Ruth Bader Ginsburg, sì l'inglese, sì la dentona brava della teoria del tutto come moglie di Hawkins e anche dentro Rogue One, un grandissimo spin-off dalla saga di Guerre Stellari, Felicity Jones era un'ottima Ruth Bader Ginsburg e Armie Hammer era il dolcissimo suo marito che c'è anche in questo documentario in versione vera, perché? Perché nel 2018, alla fine del 2018 esce una giusta causa di Mimi Leather, la versione fiction della vita e della storia dell'avvocato Ruth Bader Ginsburg e all'inizio del 2018 esce questo documentario che attraverso foto, testimonianze e interviste alla signora Ruth Bader Ginsburg e a collaboratori, racconta, cerca di raccontare più la vita di questa formidabile avvocato, magistrato, classe 1933 che cresce nella storia degli Stati Uniti d'America attraversa una società in profondo cambiamento, nel dopoguerra è una delle pochissime signore che vuole occuparsi di legge, ovviamente ha mille difficoltà ad entrare nell'ambiente, però poi piano piano comincia a scalare le posizioni, fino ad arrivare alla grande nomina di Bill Clinton alla Corte Suprema come magistrato. A quel punto diventa un'icona, a quel punto cominciamo a conoscere meglio questa donna pacata dalla voce flautata che passo dopo passo sceglie delle cause precise per lottare contro la discriminazione sessuale, diventa un'icona di tranquillità inesorabile, era come tessere una tela, dicono di lei e dei colleghi, stava creando uno scenario legale, è molto emozionante vedere questo documentario perché effettivamente chi è un pioniere? Lei è stata un pioniere perché ha capito come poteva, dopo il grande movimento progressista negli Stati Uniti d'America sulle minoranze razziali, capisce che c'è un'altra minoranza Ruth Bader Ginsburg, loro, le donne, e allora comincia a lavorare di fino e con grande pazienza, era come tessere una tela, stava creando uno scenario legale, comincia causa dopo causa, causa emblematica, dopo causa emblematica comincia a mettere a segno dei colpi legali pazzeschi che poi porteranno a un cambiamento totale della società americana per quanto riguarda i diritti al lavoro e poi anche i diritti in società delle signore che crescono, che vengono difesi maggiormente grazie al lavoro anche di questa indomabile, gnappetta, serissima, forse anche film troppo seria, infatti è divertentissimo nel documentario il rapporto privato con il marito Marty che era un po' lo spiritoso, che era un po' il Joker, che era un po' colui che doveva anche alleggerire una situazione e anche un documentario su dei giovani americani, nordamericani che tra mille difficoltà anche legate alla salute, fisica, vivono, lavorano, fanno figli, con grande fierezza, schiena dritta, fieri di essere nordamericani ma fieri di combattere per battaglie che avrebbero dal loro punto di vista e non solo dal loro reso la società nordamericana più equa, più giusta. Beh insomma è un documentario bellissimo, questo di Julie Cohen e Betsy West è stato nominato all'Oscar anche per la sua canzone originale, ha perso tutte e due, la canzone originale contro Shallow di È nata una stella e ha perso anche nella categoria documentario, però un documentario devo dire bellissimo, me lo sono goduto tutto, molto scorrevole, 86 anni la signora, c'è anche Kate McKinnon che è divertente come attrice in Yesterday di Danny Boyle che abbiamo visto come comica anche uscire dal Saturday Night Live e andare a recitare molto bene dentro Ghostbusters versione femminile, c'è Kate McKinnon che fa la parodia di Ruth Butter Ginsberg, lei che come comica si è specializzata nei ruoli iconici delle donne negli ultimi anni, nelle parodie famose anche, è stata la sua imitazione di Hillary Clinton. E quindi c'è Kate McKinnon che fa Ruth Butter Ginsberg, cioè Ruth Butter Ginsberg che diventa icona, fonda nel movimento Notorious RBG giocando con Notorious Big, il rapper new yorkese morto violentemente, lei viene paragonata a un rapper, il suo viso viene sovraimpresso sul corpo di Wonder Woman e questo è molto affascinante per noi poppettari, analisti anche del mondo pop perché Wonder Woman è stato il primo film che ha dimostrato che le donne potessero entrare nel cinema dei fumetti da protagoniste e Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman, ha chiesto che il suo salario venisse equiparato a quello dei maschi nella contrattazione per dirigere Wonder Woman 2 e quindi è come se Patty Jenkins fosse entrata nella storia di Ruth Butter Ginsberg e allora è divertente ed è giusto che Ruth Butter Ginsberg venga messa il suo viso su quello di Wonder Woman, sul corpo di Wonder Woman. Poi c'è la sua passione per l'opera e lei che partecipa a un'opera di Donizetti, la figlia del reggimento e quindi Ruth Butter Ginsberg che ha anche questo vezzo di partecipare a un suo grande amore, a una sua grande passione, sono belle le parole che usa quando racconta i sentimenti che ha quando va all'opera, si dimentica la legge, si rilassa ed è come colpita da una scossa elettrica, da una corrente elettrica. Bellissimo anche il suo ricordo di Sarah Grimke, 1837, abolizionista e attivista rivoluzionaria donna degli Stati Uniti dei primi dell'Ottocento che come un rap di Notorious Big fu autrice del famoso aforisma I ask no favor for my sex, all I ask for our brethren is that they take their feet off our necks, addirittura in rima, cioè non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che i miei fratelli maschi, beh insomma, tolgano i loro piedi dai nostri colli di donne. Questo è il rap che Ruth cita, questa è la frase di Sarah Grimke, Sarah Moore Grimke che lei cita e devo dire il documentario è molto bello perché ricorda anche tutte le cause, il lavoro di questa donna, il lavoro incessante, la step by step, passo dopo passo, il progetto mentale e strategico di Ruth Bader Ginsburg abbastanza geniale, abbastanza lucimirante di cominciare a scardinare il potere maschile in società e rendere soprattutto, mi piace molto quando usa l'immagine, era come se parlassi a dei ragazzini, noi maschi che stavamo dall'altra parte uomini che poi verso cui lei andava per le sue cause, per cercare di descrivere una società fortemente discriminata che però i maschi ben pensanti che facevano parte poi dell'elite della magistratura statunitense era come se non vedessero. Il lavoro di Fino, di Ruth, era quello di dimostrare a questi uomini che erano magari anche sinceramente convinti che non ci fossero poi tutte quelle discriminazioni nei confronti delle donne che lei portava avanti, il suo lavoro è stato quello di dimostrare con pacatezza, calma e tranquillità, è molto bello anche il discorso che fa lei su come ha lavorato anche molto nel modo di proporsi e di porsi nei confronti di questi maschi, beh questa è stata la cosa che mi ha colpito di più del suo lavoro, al di là della pazienza e di questa tela che lei tesseva incessantemente, creare questo scenario legale, sfruttare delle cause singole per poi arrivare ad ottenere dei risultati molto complessi e universali all'interno della società. Insomma il grande lavoro di una donna che oggi si allena, che è anche una nonna, si entra un po' nella sua sfera privata, dolcissimo e bellissimo il rapporto con il marito Marty che nel film di Finzione era interpretato molto bene da Arnie Hammer con il grembiolino da cuoco in cucina perché i due si scambiavano il ruolo in famiglia come babysitter, come genitori e quindi se devi lavorare te mi occupo io dei bambini, se devo lavorare io te ne occupi te e anche questa era rivoluzionaria all'epoca, è stata anche una coppia di uomo-donna rivoluzionaria e quindi è molto bello sentire anche gli amici, parenti, tutti quelli che sono stati attorno a Marty e Ruth raccontare anche la particolarità di questo rapporto sentimentale. Insomma alla corte di Ruth RBG si è creato anche questo movimento divertente, notorious RBG con Ruth che diventa una rapper, viene presa in giro ma con grande affetto da Kate McKinnon nel Saturday Night Live, è una grande progressista, si allena come Rocky in palestra col personal trainer, sta lì che fa i pesi, fa le flessioni a 80 anni perché sa benissimo che le endorfine, e lo dice, a me le endorfine mi danno una botta che poi mi rimetto a lavorare, sta ancora alla corte suprema che gli vogliamo di, è entrata lì nel 1993, ma il suo percorso anche grazie a Jimmy Carter, il suo percorso è cominciato veramente negli anni 50 quando era una studentessa e poi da lì piano 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 è riuscita a creare uno scenario legale memorabile e indimenticabile. Alla corte di Ruth RBG di Julie Cohen e Betsy West, non ha vinto l'Oscar come miglior documentario ma è veramente un grandissimo documentario su questa grandissima donna e icona del Novecento. Ciao Bad Taste, subscribe, viva Ruth, be bad, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!